Ci spostiamo ora nel Piacentino perché è tempo di bilanci dopo 5 anni di opposizione consigliare in vista del voto a Monticelli-Dongina nella bassa Piacentina. Poco o nulla è stato fatto per i servizi scolastici e soprattutto per la riapertura all'annosa questione della scuola media di Monticelli. A sostenerlo è il consigliere comunale Giuseppe Papa che questa sera abbiamo il piacere di ospitare qui da noi in studio. Consigliere, buonasera. Buonasera. Allora, 5 anni sono volati, naturalmente 5 anni dai banchi dell'opposizione per quanto la riguarda. Qual è l'argomento principale su cui secondo lei il Partito Democratico e il centrosinistra che tra l'altro si candida nuovamente a guidare il Paese hanno invece lasciato particolarmente indietro se non addirittura non affrontato? Il Consiglio Comunale abbiamo spesso trattato la priorità che si doveva dare alle opere e questo è ragione per cui dal momento del terremoto la chiusura della scuola media che doveva chiaramente essere riaperta a trovare una soluzione. Le soluzioni di emergenza sono state positive, tuttora siamo comunque in una soluzione di emergenza. A livello di progettualità la maggioranza ha fatto una proposta, una proposta che non è mai passata dal Consiglio Comunale, quindi non ha avuto una discussione totalitaria all'interno del Consiglio e non ha neppure avuto una discussione in termini di assemblee pubbliche. È un progetto fortemente criticato e fortemente discusso sia per quanto riguarda la posizione sia per quanto riguarda l'ampiezza della struttura e la possibilità poi di utilizzo e la spesa da sostenere. Questa posizione è a senso unico, cioè decisa dalla Giunta, decisa dal Sindaco e mandata in una determinata direzione. Noi l'abbiamo contestata più volte, sia in termini di necessità sia in termini di fruibilità della struttura, cioè di esigenza. Attualmente la popolazione scolastica è ospitata nel vecchio edificio dell'elementare, è chiaramente sovrappopolato, sono stati trovati dei ripieghi per trovare maggiormente degli spazi, però non possiamo dire che sia una soluzione adeguata ai tempi moderni. Quindi non è funzionale, non è funzionale alla didattica, nella pienezza nemmeno ai trasporti, perché abbiamo perso anche la palestra. Tra l'altro proprio da queste immagini stiamo vedendo l'edificio delle scuole elementari che non è un edificio sicuramente storico, ma non è un edificio moderno. Non è un edificio moderno, è un edificio ovviamente che ha però dei vincoli, pertanto anche realizzare una struttura adiacente o contigua ha delle difficoltà, perché chiaramente la soprintendenza delle vere arti vincola l'edificio vecchio. Ecco, invece sotto il profilo proprio dell'organizzazione scolastica il Comune aveva la possibilità di giocare alcune carte, ma questo non è avvenuto. Ricordiamo l'annosa vicenda di cui lei stessa si è reso portavoce qui nel telegiornale per le ore e per il calendario didattico. Sì, questa qui è l'incidenza che poi ricade direttamente sulle famiglie, perché ovviamente le famiglie si trovano in una situazione diciamo di proposta a scatola chiusa. Infatti molte famiglie scelgono altre scuole. Anche quest'anno abbiamo visto la migrazione per quanto riguarda i nuovi iscritti e le nuove prime in altri comuni. Quindi dobbiamo chiederci perché e dove si vuole arrivare. Le famiglie devono trovare la possibilità di mandare i propri figli a scuola nel proprio comune o in alternativa il comune deve trovare comunque delle soluzioni per non lasciare fuggire le famiglie. Cosa vuol dire? Vuol dire che i comuni che possono ad avere buoni servizi dopo scuola, di assistenza ai compiti, di assistenza allo studio, vedono le famiglie soddisfatte, per cui continuano a scegliere quella scuola, che è la scuola di riferimento, e di restare in quel comune. Monticelli ha una situazione che è molto precaria, sia dal punto di vista del lavoro, per cui le famiglie si trovano costrette a migrare per trovare lavoro, e una buona parte delle famiglie si trova costretta a migrare anche per quanto riguarda i servizi scolastici. Perché questo? Perché Monticelli ha sempre vissuto molto sull'assistenza dei nonni. Ovviamente la popolazione invecchia, la presenza del nonno è fondamentale, però il nonno che gode di buona salute sarà un aiuto in questa direzione. Il nonno che magari ha difficoltà di salute, chiaramente deve essere gestito da quella medesima famiglia. Quindi in qualche modo i tempi sono cambiati e l'amministrazione comunale deve andare incontro alla famiglia. Quindi questi servizi vanno implementati e vanno anche contenuti i costi. Perché dico questo? Perché le famiglie, giovani famiglie, devono sopportare i costi fin dalla nascita del bambino, per quanto riguarda per esempio la scuola dell'asilo nido. L'asilo nido ha un costo, quindi la famiglia deve sopportare il costo dell'asilo nido e il costo magari di trasferimento per cercare lavoro. E questo cosa può comportare nel caso in cui non ci siano i nonni? Il trasferimento della famiglia stessa. Quindi andiamo a svuotare quello che è la residenzialità. Questa qua è una cosa che va eliminata. Il secondo punto sono sempre quei servizi alla famiglia che riguardano per esempio tutto il periodo estivo. Sono già anni che ci viene chiesta una soluzione in tal senso. Perché nel momento in cui le scuole chiudono, le famiglie si trovano a dover gestire i figli e il lavoro fuori. E com'è che si fa? Molte famiglie si rivolgono per esempio a centri estivi in città, a Cremona, che danno magari a costi ridotti maggiormente il numero di servizi. Quindi il Comune deve per forza far fronte a questa situazione per dare un maggior aiuto alla residenzialità delle famiglie. Chiarissimo, naturalmente noi continueremo a seguire le elezioni comunali nei vari territori coperti dall'informazione di Telecolore. Sono davvero tanti. Su Monticelli d'Ongina ringraziamo il consigliere comunale Giuseppe Papa e ci auguriamo di averlo presto anche, se Dio vuole, magari con ruoli differenti in modo che possiamo a questo punto noi iniziare a fare domande su come procede l'amministrazione e sul perché di alcune scelte amministrative. Quindi in bocca al lupo a Giuseppe Papa, consigliere comunale di Monticelli d'Ongina. Grazie, grazie, buonasera.